E' stata depositata ieri all'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale di Gela la relazione della commissione di indagini istituita dalla sede civica in merito alla gestione della raccolta dei rifiuti in città. La commissione ha acceso i fari sull'ultimo anno e mezzo, da giugno 2014 a dicembre 2015, cioè dire dall'amministrazione Fasuro a quella messinese. Ai nostri microfoni il consigliere Romino Morselli, uno dei componenti della commissione preseduta da Salvatore Gallo e composta dai consiglieri San Mito, Didio, Siracusa, Malluzzo, Torrenti, Amato e Cascino. Perché la nostra attenzione si è concentrata nell'ultimo biegno? Perché è nell'ultimo biegno che la città di Gela assiste ad una trasformazione del servizio di raccolta rifiuti. Abbiamo cercato di capire come sia avvenuta questa trasformazione, questo passaggio repentino e quali costi questa trasformazione abbia comportato per le tasche dei cittadini gelesi. Ed è proprio lì che abbiamo individuato attraverso tutta una serie di elementi documentali e audizioni dei diversi attori protagonisti, sia della parte amministrativa che dei dirigenti del settore, che i responsabili della società in questione che si occupa del servizio di raccolta, abbiamo avuto modo di analizzare come la città di Gela si sia trovata in modo per noi un po' approssimativo e repentino ad una immediata trasformazione del servizio di raccolta rifiuti che passa da un servizio di raccolta indifferenziato ad un servizio di raccolta differenziato con il metodo porta a porta, ma la cosa che ha lasciato un po' stupiti i componenti della Commissione è che l'impegno dell'amministrazione comunale nel giugno del 2014 fosse quello di accogliere una proposta migliorativa da parte della società che gestisce la raccolta a costo zero, quindi senza ulteriori costi per il comune di Gela. La cosa che ci ha stupito è che il capo dell'amministrazione precedente, con la copertura successiva di una delibera di giunta, decidono di accogliere questa proposta e poi stranamente ci troviamo a dover analizzare tutta una serie di costi e di servizi aggiuntivi che hanno comportato un notevole sborso di denaro pubblico a discapito di quello che era l'impegno iniziale. Questo è quello su cui noi abbiamo concentrato la nostra attenzione e soprattutto anche su tutto quello che è stato fatto a livello amministrativo, perché abbiamo notato che rispetto a questa scelta, che è una scelta politica, non ha fatto seguito una scelta dirigenziale oculata, una scelta dirigenziale soprattutto parsimoniosa di quello che poi sarebbe stato l'esborso per le casse del comune. E quindi sono emersi anche delle responsabilità, a nostro avviso, amministrative.